Biglietto unico regionale per il trasporto pubblico, la proposta di Luca Zai, attuabile di centro un paio d'anni. Indire il Capodanno Veneto a febbraio, un mese che diverrà l'emblema della cultura tra i programmi elettorali di Alessandra Moretti. Non mi dimetto, resterò fino alla fine del mio mandato, così Leonardo Muraro che spiega perché ha lasciato il carroccio. L'omicidio del quarantenne Aldo Gualtieri, sopralluogo degli investigatori del RIS, negli appartamenti di Romano Dezzelino. Si filmano col telefonino mentre svaliggiano il centro sportivo di Godego, nei guai due ventenni, ferito un carabiniere nella fuga. A Santa Bona, 26enne ubriaco, entra in casa dell'ex fidanzata e la minaccia con un coltello, arrestato, rischia un'accusa di stalking. Pensioni non adeguate all'inflazione, oltre 71.000 pensionati trevigiani interessati dal rimborso, ma ci sarà da aspettare. Passerelle dei Burci, saltato il contributo per la ristrutturazione comune infuriato, pronto a chiudere per motivi di sicurezza. Buonasera dalla redazione di Tg Treviso, in apertura il blocco dedicato alla politica e alle elezioni regionali, con il candidato della Lega Nord, il governatore uscente Luca Zaia, che lancia l'idea di un biglietto unico regionale per il trasporto pubblico locale. Il servizio di apertura di Anna Maria Parisi. È un'autentica rivoluzione anche perché è frutto del lavoro di anni. Oggi noi partiamo, partiamo ufficialmente, vorremmo avere il biglietto unico con tariffa unica alla volta di un anno. Una tessera unica regionale per treni, bus, car sharing e per chi si reca a Venezia pure per i vaporetti. Il servizio di Tg Treviso funzionerà con il sistema della carta ricaricabile e sarà operativa entro un anno e mezzo, massimo due da oggi. Nel frattempo è firmato l'accordo di proroga dei servizi Trenitalia, tra il governatore uscente e candidato della Lega Nord alla presidenza di regione Luca Zaia e l'amministratore delegato di Trenitalia Vincenzo Soprano, in attesa della gara per il nuovo gestore del trasporto ferroviario regionale. Annunciato intanto del prossimo 17 maggio l'aumento dei convogli ferroviari, con una serie di variazioni all'orario cadenzato e potenziando nuove corse, con i treni regionali veloci che ad esempio viaggeranno anche di sabato, così come richiesto da pendolari e comitati. E in seguito alla richiesta della regione a Trenitalia di maggiori parametri di efficienza, con più puntualità e pulizia. Trenitalia, da canto suo, si è impegnata a restaurare 250 carrozze e acquistare 20 treni del tipo Bivalto, come quello inaugurato e che entrerà presto in linea. Abbiamo già avuto un bel miglioramento con l'orario cadenzato, oggi con questo nuovo accordo si va a dare una risposta a quei cittadini che rappresentano il 10% degli utenti che ancora oggi non hanno risposte rispetto ad alcuni servizi notturni o durante il giorno. E la sfidante del Partito Democratico invece, Alessandra Moretti, lancia l'idea di un capodanno veneto, nel nome della cultura con agevolazioni per i giovani fino ai 29 anni con la carta cultura. Attrarre sempre più turisti nel nome della cultura, tra i programmi di Alessandra Moretti, candidata democratica alla presidenza del Veneto, che lancia anche la proposta del capodanno veneto. Noi lo faremo con il febbraio in cultura, e quindi un mese dove tutte le attività culturali, dai musei alle mostre, agli spettacoli, vivranno una stagione di festa che culminerà nel capodanno veneto, il 28 febbraio, e poi attiveremo la carta cultura dedicata ai giovani fino ai 29 anni e alle famiglie, perché anche le famiglie hanno diritto con i propri figli, i propri bambini, ad andare a teatro, ad andare a vedersi uno spettacolo e a godere di alcuni benefici. Campagna elettorale che si propone come sfida all'ultimo colpo, anzi di più all'ultimo biglietto. Anche la candidata democratica propone infatti l'idea del biglietto unico regionale per i trasporti pubblici e il progetto di potenziare i servizi ferroviari, attuando l'idea della metropolitana di superficie. La sfida è grande, lo so, insieme al biglietto unico regionale potenzieremo grazie ad un fondo di 500 milioni di euro tutta la rete ferroviaria Veneta per poterla vedere finalmente realizzata e compiuta nella metropolitana di superficie. Abbiamo troppe municipalizzate che si occupano di trasporto pubblico locale, ma dobbiamo arrivare a maggiori servizi efficienti per il cittadino e il biglietto unico è uno di questi. Dobbiamo tutelare i pendolari, cioè chi prende il treno per lavorare, per andare a studiare. Purtroppo in questi anni non c'è stato un investimento adeguato da parte della regione sulla rete ferroviaria. Tantissimi soldi spesi invece nel cemento e nelle strade. Dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo cambiare il Veneto per migliorare i servizi. E si è lanciato invece dal grappa con il parapendio atterrando a Semonzo un lancio per Jacopo Berti, il candidato alla regione del Movimento 5 Stelle, un gesto di protesta contro la devastazione del territorio e per fornire un diverso punto di vista sul tema dell'ambiente. Un gesto simbolico proprio nel corso del tour elettorale dedicato all'ambiente nel territorio della marca. Obiettivo di Jacopo Berti, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione, promuovere una nuova politica territoriale che tuteli la salute dei cittadini, difende l'ambiente, incentivi il turismo e valorizzi i luoghi di interesse paesaggistico e storico. Il tour ha toccato Pederobba, dove si è parlato di cementifici, cave e centri commerciali, quindi a Montebelluna per discutere della cattiva gestione del sito archeologico di Posmon, ha detto Berti. A Spresiano, con il tema della piedemontana, assieme a quello del velodromo di Mosole. A Vittorio Veneto e 5 Stelle hanno approfondito i temi della viabilità e dei lavori pubblici, assieme a quelli dell'inquinamento. Infine, nel merino di Farra di Soligo, le monoculture intensive, l'uso di pesticidi e dissesti idrogeologici. Leonardo Muraro, presidente della provincia in carica, ha incontrato i giornalisti oggi, parlando finalmente dopo la scelta di scendere in campo al fianco di Flavio Tosi. Considerate quel 50% che la Dario ci dice di dover distribuire nel territorio, la soluzione è stata trovata. Dall'altra parte, il mio impegno, dando in regione, se ci riesco ovviamente, è quello di dare una svolta per dare una risposta. Questa è la rassicurazione dipendente della provincia di Leonardo Muraro dopo la scelta di correre alle regionali come capolista per Treviso nella lista Tosi. Nessun dietrofronte rispetto a una settimana fa, spiega ora Muraro. Ma non lo ritengo indietrofondo, è stata un'ulteriore meditazione anche in considerazione di quelli che sono stati anche i rapporti intrattenuti dopo la mia conferenza. Io in quella conferenza avevo detto mi stoppo, non ho detto vado da una parte, vado dall'altra. Per Muraro Tosi sarebbe l'unica alternativa a Renzi. Un progetto politico ampio che va oltre le regionali. Muraro che non ha alcuna intenzione di dimettersi dalla carica di presidente della provincia. Non so se posso sospendermi ma rimarrò presidente come un presidente candidato come ce ne sono tanti. L'eventualità è quello che io dovessi essere eletto, si sarebbe portata a regime come tutte le altre province del Veneto in quanto entro 60 giorni dovrei invire le elezioni di secondo livello dell'ente provincia. Le spiegazioni in conferenza stampa alla presenza di Tosi di Mirko Lorenzon, capolista per Razza Piave. Il provincio non cambierà niente, adesso aspettiamo, il 31 maggio si voterà, poi saranno i veneti naturalmente che diceranno a chi votare e come votare. Infine il messaggio a Luca Zaia. A Zaia posso dire vinca il migliore. Lasciamo la pagina politica, passiamo alla cronaca e torniamo a occuparci dell'omicidio del quarantenne Aldo Gualtieri. Ucciso si presume a Romano Dezzelino, poi il corpo è stato bruciato a Possagno, oggi sopralluogo degli investigatori del RIS di Parma, proprio a Felette di Romano Dezzelino. È durato ore il sopralluogo degli uomini della RIS di Parma negli appartamenti degli orrore di Via Isonzo a Fellette di Romano Dezzelino. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno lavorato dalle 11 di stamane all'interno delle due abitazioni poste sotto sequestro a seguito dell'omicidio di Aldo Gualtieri, il quarantenne che proprio nel condominio Smeraldo abitava con la sua compagna ed assassina, Lucia Logatto, 41 anni, arrestata assieme all'amante Emanuele Palazzo, di 28 anni. I militari stanno cercando di trovare gli indizi necessari a ricostruire l'esatta dinamica del dramma. L'autopsia sul cadavere di Gualtieri avrebbe escluso la morte per accoltellamento, come si è ripotizzato in un primo momento. Il suo corpo, come ampiamente riportato nei nostri Tg, è stato caricato in auto dai due con l'aiuto di un terzo complice, pure questo iscritto nel registro degli indagati, e trasportato sino nei boschi di Possagno. Qui è stato bruciato, qui è stato rinvenuto carbonizzato assieme al coltello da cucina con il quale era stato colpito. Ma Palazzo e la Logatto hanno compiuto troppe mosse false che sono costate ai due l'arresto e la carcerazione a poche ore dal rinvenimento della salma al quarantenne. Nei due appartamenti di quartiere Cristale è nascosta la chiave di lettura dunque dell'omicidio di Aldo Gualtieri e oggi, oltre al reparto investigativo di Parma, anche i carabinieri di Bassano e di Treviso. A Castello di Godego due ventenni sono finiti nei guai. L'altra notte hanno cercato di svaliggiare il centro sportivo parrocchiale, filmando il tutto con il telefonino. Con il telefonino hanno ripreso il colpo al centro sportivo parrocchiale, immortalandolo in un video che alla fine li ha incastrati entrambi. La bravata di due ventenni di Castelfranco sabato notte a Castello di Godego, dove però i carabinieri li hanno sorpresi. Stavano cercando di rubare dell'attrezzatura sportiva. Quando si sono visti scoperti, sono scappati a gambe levate. Dopo un breve segmento, uno dei due veniva bloccato. Durante le fasi concitate dell'arresto, una conluttazione nel corso della quale uno dei militari riportava lesioni guaribili in 45 giorni per il distacco delle tentine del quinto dito della mano destra. Per l'arrestato le accuse sono di rapina impropria, violenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il complice è stato rintracciato e denunciato di lì a poche ore. Sequestrato anche il martello usato per scassinare il centro sportivo. La cosa che ci ha maggiormente colpito è che i due giovanissimi hanno ripreso il furto con il loro telefonino, probabilmente con un atto di spavalderia. Attraverso la visione del FIMAP siamo riusciti ad individuare il complice che era riuscito a fuggire. Poi lo abbiamo rintracciato la mattina seguente. Per questo lo abbiamo denunciato in Stato di Libertà all'autorità giudiziaria competente. E a proposito di filmati andiamo a vedere quello della folle corsa, forse per una scommessa in Piazza Cima, che ha messo seriamente a rischio l'incolumità dei tifosi che stavano festeggiando lo scudetto. Questo è accaduto nella centralissima piazza di Conegliano sabato sera. La scorribanda è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il video è stato quindi pubblicato sul blog Aiutiamo Conegliano. L'auto proveniva da Via Teatro Vecchio, come si vede dalle immagini. Chi in quel momento si trovava in piazza a corso un bel rischio, indignati i presenti che hanno invocato l'intervento della polizia locale perché sanzioni pesantemente l'autore del gesto. Ora torniamo a Treviso, in un quartiere Santa Bona, dove l'altra sera un giovane ubriaco è entrato nella casa dell'ex fidanzata minacciandola con un coltello, poi è fuggito ma è stato ripreso e arrestato. Quella relazione violenta fin dall'inizio, dopo due anni, stava finendo. Lui, un 26enne trevigiano, l'altra sera a Santa Bona si è presentato ubriaco a casa dell'ormai ex fidanzata, una sua coetanea, ingiungendole di aprirgli la porta, voleva riprendere le sue cose. Ma visto l'ho fuori di sé, la giovane non l'ha fatto entrare. Infuriato, il ragazzo ha rotto una finestra al piano terra, è entrato in casa, ha afferrato un coltello e ha minacciato la 26enne tenendola per il collo. La giovane è riuscita a divincolarsi, a chiudersi a chiave in una delle stanze dell'abitazione e a chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo della polizia, il suo aggressore è scappato. Mentre fuggiva, continuava a minacciarla al telefono. Se mi denunci, mi vendicherò, diceva. Gli agenti delle volanti l'hanno rintracciato poco dopo, a casa di alcuni parenti. Arrestato, il 26enne si trova attualmente ai domiciliari. L'accusa nei suoi confronti è al momento quella di lesioni e minacce, ma non è escluso che la procura gli adebiti il reato, ben più pesante, di stalking. Pare infatti che non fosse la prima volta che l'individuo diventava manesco. I referti medici confermerebbero altri episodi di violenza tra il 2013 e il 2014, senza però che la vittima si decidesse a denunciarlo. Ora parliamo di pensioni. Le pensioni non adeguate all'inflazione sono oltre 71 mila. I pensionati trevigiani interessati dal rimborso, ma per averlo non sono ancora chiare le modalità e soprattutto i tempi. Rimborsi sulle pensioni, oltre i 1.443 euro lordi, che nel 2012 e nel 2013 il governo Monti decise di non adeguare all'inflazione. Anche nella marca sono decine di migliaia gli anziani che dopo la sentenza della Corte Costituzionale attendono di sapere quando e come rientreranno dei soldi non erogati. Interesserà circa 71 mila pensionati. Sono state fatte delle proiezioni, ad esempio dai Corriere della Sera, che ad esempio su una pensione di 2 mila euro il vantaggio economico non sarebbe disprezzabile. Mediamente dovrebbero rientrare nelle tasche dei pensionati 1.800 euro, ma come questo avverrà è ancora nebuloso. Saranno arretrati che vengono pagati a rate, saranno arretrati che vengono versati nel tempo. Insomma, la cosa è ancora in cammino. Di fatto bisognerà aspettare. La situazione è di attesa. Si tratta chiaramente di una sentenza della Corte Costituzionale che va sicuramente applicata. Si tratterà di capire come verrà applicata. Dà e restituisce legittimamente quello che i pensionati era stato escluso e che, a mio parere, ingiustamente, in quanto i provvedimenti e la situazione economica non devono mai sempre ricadere addosso a chi ha un reito fisso come i pensionati. Sindacati critici sul provvedimento preso dall'allora Premier Monti e sulle spiegazioni che fornisce oggi il Paese rischiava la bancarotta, non c'era alternativa. C'erano altri modi, dicono, per recuperare quelle cifre a cominciare dalla lotta agli sprechi. Questo è anche contemporaneamente un insegnamento per gli anni futuri perché non ci sia sempre una rincorsa solo verso chi ha un reddito fisso. Anche perché ne va del sistema economico tenendo conto di quanti pensionati ci sono e se questi non possono spendere perché vengono ridotte le loro capacità è chiaro che ne va del sistema generale del Paese. Sciopero nazionale domani del mondo della scuola contro il disegno di legge di riordino della scuola pubblica statale messo a punto dal governo Renzi. In Piazza Milano scenderanno studenti e insegnanti una grande mobilitazione sottolineano dalla CISL da Treviso e Belluno partiranno secondo il sindacato 5 Pullman alla volta di Milano con oltre 200 docenti e una cinquantina di studenti ma domani in Piazza dei Signori a Treviso e negli altri centri del Veneto si svolgeranno anche tante manifestazioni spontanee flash mob che vedranno protagonisti studenti, docenti e tutti i cittadini che vorranno unirsi alla protesta obiettivi del sindacato la stabilizzazione dei precari la valorizzazione del lavoro del personale della scuola il rinnovo del contratto nazionale bloccato da 7 anni Ora andiamo lungo il Sile a Casier Passerelle dei Burci è saltato il contributo per il radicale intervento di ristrutturazione il Comune non ci sta è pronto a chiudere se verranno a mancare i presupposti della sicurezza per l'ente parco invece intervento solamente rinviato di qualche mese Per noi il ponte dei Burci è fondamentale per tutto il nostro indotto turistico è assolutamente indispensabile però non andavano persi i finanziamenti e vanno fatti quei lavori di manutenzione quantomeno che sono assolutamente indispensabili per poter tenere aperto Salta il contributo regionale di 600 mila euro per la ristrutturazione delle passerelle dei Burci lungo la restera a Casier dall'ente parco del Sile il Comune non ha ricevuto ancora nulla di ufficiale ma la notizia è certa e il sindaco Miriam Giuriati è pronta a chiudere le passerelle se la sicurezza non sarà più garantita Hanno rinunciato questa è stata la parola esatta a questo finanziamento in quanto non riuscivano a portare avanti il progetto entro il giugno che doveva essere poi ricontato dalla regione quindi l'hanno perso questa è la verità e che ci sono altri finanziamenti in programma sempre dalla regione sempre però verbalmente dall'ente parco il presidente Nicola Torresan fa sapere che i lavori sono solo rinviati chiudere le passerelle per tutta l'estate con la concomitanza dell'Expo che dovrebbe attirare turisti anche nel nostro territorio non sembrava opportuno e poi dice rinviare a gennaio permetterà di dare respiro alle casse dell'ente per realizzare l'intervento si accederà ad altri fondi stavolta ministeriali con scadenza 2017 per fare l'opera conclude ci sono due anni di tempo ma per il sindaco occorreva intervenire con la massima urgenza quello che mi preoccupa è la pessima condizione le pessime condizioni statiche del ponte dei Burci hanno portato la protezione civile l'altro giorno l'ingegnere Franzoso a fare un sopralluogo e anche di quello ancora non mi è arrivata notizia ma siamo d'accordo che se c'è bisogno se c'è problema di sicurezza qua si chiude e poi si vedrà cosa fare noi terminiamo il nostro telegiornale dando uno sguardo alla programmazione alle 21.05 su Rete Veneta andrà in onda i Don Giovanni della Costa Azzurra di Vittorio Sala ambientato proprio tra Cannes e Centrope è tutto per questa sera TG Treviso torna domani io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata arrivederci a such a